Un'azione fulminea messa a segno da due malviventi, nessuno infatti si sarebbe accorto di nulla. Verso le due del pomeriggio di martedì un settantenne del posto stava prelevando dallo sportello Bancomat dell'Unicredit di via Aldomoro a Busa di Vigonza. Appena inserita la tessera nella TM e digitato il PIN, il settantenne è stato strattonato alle spalle e buttato a terra da uno sconosciuto. Un secondo bandito ha così digitato la cifra massima da prelevare, 1500 euro. I due, che sembra fossero stranieri, sono immediatamente fuggiti facendo perdere alla svelta le loro tracce. Sui due sportelli Bancomat della filiale Vigontina sono puntate almeno due telecamere che potranno aiutare i carabinieri a risalire agli aggressori che hanno agito a volto scoperto.